Buonasera Giorgio, buonasera a tutti gli ospiti studio, buonasera anche a voi che ci seguite da casa. Io vi ricordo come sempre il nostro indirizzo di posta elettronica che è diretta a chiocciolaplatinuncalcio.it al quale inviare tutte le vostre email in attesa di questa serata di campionato, turno infrasettimanale come giustamente ha ricordato Giorgio. Un saluto particolare prima a Caterina Bellandi, Milano 25, con i suoi bambini, alcuni bambini del maniere, alcuni bambini del reparto onco-ematologico dell'ospedale di Catania che sono presenti in tribuna d'onore per quel che riguarda appunto lo stadio catanese per seguire dal vivo Catania e Fiorentina. Noi li salutiamo e sappiamo che sono giunti proprio fino a laggiù per tifare la squadra della Fiorentina. E adesso vi presento naturalmente quelli che saranno gli ospiti di questa sera.